Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'anziana trovata senza vita all'interno di un appartamento di via Montanara. Dopo l'autopsia svolta ieri a Siena arriva il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. La salma è stata restituita ai familiari ad occuparsi dei funerali di Carla Maria Vittoria Bazzani, la 92enne ritrovata senza vita in un appartamento di via Montanara nel quartiere di Saione, sarà una nipote. Il nulla osta è arrivato a seguito dell'autopsia svolta dal professor Mario Gabrielli dell'equip di medicina legale di Siena, che ha escluso la morte violenta. L'anziana sarebbe deceduta per cause naturali. L'accertamento avrebbe poi confermato le prime indiscrezioni fornite dalla ricognizione cadaverica effettuata ad Arezzo. La morte risalirebbe dunque ad un periodo compreso tra tre e sei mesi. Per risultanze più approfondite, secondo quanto emerso, occorrerà invece attendere una settimana. La 92enne era stata ritrovata lo scorso 31 agosto in avanzato stato di decomposizione, coperta da un lenzuolo nell'appartamento nel quale conviveva con la figlia di 60 anni, alla quale la procura contesta anche il reggiro all'Inps. Avrebbe infatti utilizzato i soldi della pensione versati nel conto dopo il decesso dell'anziana. La donna era già iscritta nel registro degli indagati per abbandono di persona incapace. La 60enne sarebbe stata a casa sino allo scorso luglio, quando era stata vista allontanarsi con un trolley destinazione Rimini, dove poi è stata rintracciata lo scorso lunedì dagli uomini della mobile di Arezzo. Sono stati svolti infine accertamenti anche sulla carcassa del gatto, ritrovato senza vita sempre all'interno dell'appartamento accanto alla salma dell'anziana. Ha toccato anche la provincia di Arezzo l'operazione della Guardia di Finanza di Ancona, che ha smantellato una complessa frode nel settore dei superbonus edilizi. C'è anche Arezzo, tra le città in cui gli uomini della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a quanto disposto dalla procura di fermo nell'ambito di un'indagine che ha riguardato i fondi dei superbonus edilizi. Gli inquirenti hanno ipotizzato una frode portata a termine tramite delle intestazioni societarie fittizie e fatture per operazioni inesistenti. I proventi, considerati illeciti, sarebbero stati autorriciclati nell'acquisto di beni immobili e mobili. Colui che si ritiene sia stato il vertice si trova in carcere mentre si trova agli arresti domiciliari un professionista. Altre quattro persone hanno l'obbligo di presenza alla polizia giudiziaria. Sequestrati anche 3 milioni di crediti fiscali ritenuti inesistenti e ulteriori disponibilità per oltre 2 milioni di euro. 12 e le unità immobiliari a cui sono stati apposti i sigilli oltre ai contocorrenti e a diverse autovetture. La persona che si trova in carcere è ritenuta dagli inquirenti dall'alto spessore criminale residente da anni nel Fermano condannato in via definitiva per diversi reati tra cui l'estorsione, la detenzione illecita di armi, il sequestro di persona, lesioni e violenza privata. Tra i destinatari delle misure cautelari anche un ingegnere che si premurava di presentare all'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, le necessarie asseverazioni con informazioni ritenute false o attestazioni non veritiere sulla congruità delle spese. Un incidente nella notte lungo la strada provinciale 540 di Valdambra nei pressi di Bucine. Poco prima delle quattro un'auto ha sbandato e definita fuoristrada per causa ancora in corso di accertamento. Una delle due persone a bordo non ha necessitato di cure mentre l'altra, una ragazza di 19 anni, è stata trasportata in codice 2 all'ospedale della Gruccia di Montevarchi non ci sono altre vetture coinvolte sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E adesso la cronaca giudiziaria. Solti i due retini di 43 e 68 anni che erano finiti a processo con l'accusa di fatturazioni false per circa 450 mila euro. Erano stati rinviati a giudizio dalla procura di Forlice Sena assieme ad una 43enne di Cervia per una vicenda che riguardava la gestione della discoteca Pineta di Milano Marittima. Il PM aveva chiesto per loro una condanna tra i 4 e i 4 anni e mezzo ma il giudice li ha scagionati perché il fatto non sussiste. L'inchiesta era iniziata nella 2020 e le indagini avevano portato ad un sequestro preventivo su alcuni conti correnti. E ora torniamo a parlare invece dei disordini avvenuti durante il corteo della giostra del Saracino. A breve potrebbero arrivare le prime denunce. È attesa la conclusione ufficiale delle indagini ma a breve potrebbero scattare le prime denunce per i disordini durante il corteo della giostra del Saracino dello scorso primo settembre. La Dicos della Questura di Arezzo sta infatti ultimando il lavoro di individuazione dei responsabili. I reati ipotizzati sarebbero quelli di rissa e lesioni. Gli investigatori hanno incrociato gli elementi provenienti dai video dell'episodio violento che si è consumato di fronte al teatro Petrarca con testimonianze e referti medici da ferugli che avevano visto coinvolti figuranti e spettatori. Ma non solo, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli aveva anche presentato denuncia per l'occultamento delle transenne per la sicurezza al quale poi era seguita l'aggressione di un dipendente comunale in via Mazzini. Le transenne sono state spostate dal piano stradale suolo pubblico in un luogo privato contiguo e a quel punto chi è entrato dentro si è trovato davanti chi non gliele voleva far recuperare cioè quello è materiale pubblico. Era una decisione presa in comitato ordine e sicurezza pubblica e quindi doveva essere attuata. Non possiamo lasciar correre questo tema. Parallelamente sarà la magistratura della giostra ad esaminare i comportamenti in piazza e in particolare i disturbi nella fase di partenza delle carriere. Nei giorni scorsi sempre il sindaco Ghinelli aveva ipotizzato anche tra le misure da mettere in campo per le prossime edizioni quella dell'antidoping per i figuranti. Perché i comportamenti che si sono visti non sono consoni di una persona lucida. Dico solo questo. Per i disagi subiti dai pendolari della tratta Rezzo-Valdarno-Firenze il Movimento Consumatori intende rivolgersi alle istituzioni europee. Abbiamo deciso di informare le istituzioni europee commentano Benedetto Tucci, presidente del Movimento Consumatori Toscana e Armando Mansueto, presidente della sezione Aretina. I pendolari continuano a subire disagi e ripercussioni sulle proprie attività a causa dei continui disservizi ferroviari. Ha ragione il Comitato Pendolari-Valdarno è direttissima quando dice che la situazione potrebbe peggiorare con la riapertura delle scuole con i nuovi treni alta velocità sulla direttissima da dicembre. E adesso voltiamo pagina per parlare di sanità. È pronto infatti ad entrare in servizio anche in Toscana il numero europeo 116-117 per le cure e i bisogni sanitari non urgenti. Parta in Toscana il numero 116-117 per chiamare la guardia medica in caso di bisogni sanitari non urgenti e dentro la fine di novembre sarà attivo in tutta la regione. È infatti questo il nuovo numero del servizio di continuità assistenziale ovvero quello che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 nel fine settimana e nelle festività. In questi giorni inizierà una campagna di comunicazione per spiegare la novità ai cittadini. L'utente, come già avviene per il 112, potrà essere geolocalizzato. Al telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati con quasi 200 linee attive in contemporanea. Il servizio non parlerà solo italiano, ma grazie ad interpreti e all'intelligenza artificiale potrà interloquire con cittadini e turisti in molte lingue diverse e per i cittadini con difficoltà auditive è disponibile il servizio per sms. Una volta entrato a regime, il numero offrirà anche altri servizi tra cui telemedicina, consigli sanitari non urgenti, certificati, vaccinazioni, adempimenti burocratici, servizio veterinario, cure palliative ed assistenza domiciliare. Dal 16 settembre il 116-117 entrerà in funzione nel territorio della città metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre sarà poi attivato anche ad Arezzo, Grosseto e Siena e poi dal 18 novembre a Livorno, Lucca, Massacrare e Pisa. Una volta entrato a regime, il numero sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa mattina la Croce Bianca di Arezzo con il presidente Urbano Dini e relativi consiglieri durante la seduta del Consiglio ha consegnato un attestato di riconoscimento ai volontari Cavalier Paolo Laurita e il maresciallo Bagnoro Marziali per i 30 anni di attività in favore della Croce Bianca Aretino. Questa notte invece si è spenta la nonna più anziana d'Italia, 110 anni, la signora Clara è stata a soccorsa proprio dalla Croce Bianca di Arezzo ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Donato dove purtroppo non ce l'ha fatta. Cambiamo decisamente argomento, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno infatti va verso le elezioni. Dalla 1 al 5 ottobre si svolgeranno le votazioni per decidere la composizione della squadra elettiva. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno verso le elezioni con la conclusione del quinquennio iniziato nel 2019. Si vota dal 1 al 5 ottobre in tutti i comuni del comprensorio per decidere la composizione della squadra elettiva che avrà il compito di guidare l'ente per i prossimi 5 anni. Sono chiamati a votare i consorziati, ovvero i proprietari di immobili sia persone fisiche sia persone giuridiche di immobili nel territorio del comprensorio. Le votazioni appunto sono dalle 9 alle 18 presentandosi con un documento di identità e nel caso di legare il rappresentante con un documento che attesti il potere di firma ad esempio per le società una visura camerale. 35 i seggi allestiti dal Consorzio di Bonifica sul territorio di competenza indipendentemente dal comune in cui ricadono i beni. Queste indicazioni, le rubricazioni dei seggi si possono trovare nei due siti dedicati quello del Consorzio cb.valdarno.it e il sito unico dei consorzi toscani bonificalvoto.toscana.it Sono complessivamente 41 invece i candidati pronti a scendere in campo per andare a comporre la nuova assemblea consortile. Un consorziato ha diritto a un voto va detto che le liste sono divise in tre fasce quindi ogni consorziato potrà esprimere un voto all'interno della fascia di appartenenza. Le fasce sono state determinate in base al contributo che viene pagato annualmente. È possibile il voto di preferenza praticamente si vota ponendo una X o sul simbolo della lista oppure su un nominativo di un candidato che viene riportato all'interno della lista. In quel modo il voto va sia al candidato sia alla lista. Quasi in tempo reale praticamente finiscono il 5 e il 6 saremo in grado di proclamare gli eletti. Adesso parliamo di scuola. Pochi giorni dal suono della prima campanella per il terzo anno consecutivo l'Istituto Comprensivo Ritalevi Montalcini di Lucignano organizza nei giorni 9 e 10 settembre presso il Santuario della Verna un momento intensivo di attività formativa rivolto a tutto il personale scolastico, docente e ata. La Verna è il luogo individuato quest'anno perché si tratta di un retiro motivazionale in un contesto carico di spiritualità francescana che rappresenta universalmente i valori di cura e accoglienza. Il tema guida scelto quest'anno infatti è prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente. La Saima Meccanica invece è in partenza per i campionati del mondo delle professioni. L'azienda è stata scelta per progettare e realizzare le cabine di verniciatura che da martedì 10 e domenica 15 settembre verranno utilizzate al maggiore evento internazionale dedicato alle capacità lavorative e la WorldSkill Competition di Lione. E adesso la cultura. Nuove mostre arricchiscono infatti Arezzo, la città del Vasari, il sistema di esposizioni, eventi e celebrazioni che fino a febbraio 2025 renderanno omaggio al maestro Aretino nella sua città natale in occasione dei 450 anni dalla morte. Il mese di settembre si è così aperto con il disegno fu l'imitare il più bello della natura. La casa disegna le idee di Giorgio Vasari e la figura dell'intellettuale architetto. Fino alla 2 febbraio il Museo Statale di Casa Vasari sarà così lo scenario di un'esposizione a cura di Manuela Ferretti e Rossella Sileno. Alcuna cosa fuor dall'uso comune, il convito per le nozze di essere a Suero di Giorgio Vasari è invece la mostra che apre il 21 settembre presso il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna. E stasera e domani invece sono le ultime giornate per vivere la 48esima edizione dell'Antica Festa del Tegame. E' una festa che fa promozione del territorio, facciamo piatti tipici aretini con le ricette rigorosamente come le facevano le nostre nonne, con piatti cucinati nel Tegame, con piatti antichi, niente, è festa. La pietanza che è andata per la maggiore è le tagliatelle col sugo di nana. Io sono lì a saltarle, mamma mia, ne va via a centinaia per sera. Ultimo fine settimana per l'Antica Festa del Tegame di Monte Soprarondine, frazione alle porte di Arezzo. La cucina rispetta le più antiche tradizioni rigorosamente aretine. I piatti tipici aretini che vanno per la maggiore a questa festa sono l'anana in porchetta, poi in più c'è trippa, grifi, fegatelli, arista l'antica, ribollita, zuppa di funghi. Tutti questi piatti li trovate alla nostra festa. In più ci sono dei sommelier che vi consigliano un vino aretino abbinato al vostro piatto che scegliete per la cena. Non manca però un tocco di modernità con gli aperitivi, ad esempio lo spritz di Monte, ricetta segreta. No, c'è l'ingredente segreto ragazzi, non possiamo, venite qua e lo bevete qua. Non solo tavola ma anche divertimento sempre nel rispetto della tradizione come il gioco dei tappi dove si sa vincono sempre tutti. Si dice sempre, l'unico che perde sono io. È la seconda sera che dopo la cucina me l'ho messo qui. domenica 8 settembre a Pontiacchiani invece una serata curiosa e senza dubbio divertente con Santi Cherubini che racconterà la storia del paese che non c'è più. Eh sì, siamo a Pontiacchiani con Santi Cherubini tra tre strade si diceva. Siamo compresi fra tre vie se dice Arezzo. Esatto, non siamo in mezzo a una via, siamo in mezzo a tre vie perché c'è la via provinciale che porta San Giuliano, Pantifole, Puglia. Questa qui che è l'ingresso del raccordo e quella di sopra che è il raccordo quindi bisogna stare attenti insomma perché se Dio ne guardi, se vado e faccio metto un sotto. Ecco, quindi... Evitare di stare in mezzo a una via anzi a tre venite in questo bellissimo spazio del circolo di Pontiacchiani proprio per ascoltare questa bella storia. Che storia ci racconti? Eh, la storia, la storia è praticamente io che è una denuncia che si fa perché il paese di Chiani non c'è più. È sparito il paese di Chiani. Non si sa perché ma è proprio... non c'è. Quindi bisogna fare questa serata apposta per cercare... Chi l'ha visto? Ecco, questa serata servirà proprio a questa. è stata ritrovare il paese di Chiani. Naturalmente è una cosa metaforica che uno intende ah, l'anima del paese che non c'è più perché le casse ci sono. Però veda allora la dimostrazione che veramente il paese è sparito. È veramente sparito. Che faranno i cittadini, gli aretini ad ascoltare questa storia? Devono venire qui se non voglia, sia ben chiaro. Se non piove, soprattutto comunque se piove c'è il capannone, quello là che si fa dentro al capannone anche quando facevano i fuochi a Chiani, se per caso pioveva li facciamo dentro al capannone per traverso. È volato anche il microfono. Non ne smanetto. Ma la lasciamo così, eh? Non ne smanetto per niente io. Quindi... Ma ci sarà anche la redazione di chi l'ha visto o farai tutto da solo? No, 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 no. Se cerca di ritrovare insomma un po' il capo dalle corde come si dice di questo paese quindi la storia, gli aneddoti, tutto quello che fa parte come si dice delle storie popolari dei paesi perché come si dice, no? Che poi quello che succede in un paese succede dappertutto, sia ben chiaro. È un microcosmo di vita perché come si dice se è vero che tutto mondo è paese allora ogni paese è il mondo. Non so se hai capito questo è bello. Questa è venuta bene. Ascolta, ma una piccola anticipazione ce la dai o lasciamo tutto un po' segreto? No, no, no. La cosa che non dovrei anticipare però diciamo che tutto parte dal fatto che le rotonde hanno mandato in crisi le rotonde dei Pontachiani hanno mandato in crisi i satelliti e quindi nei satelliti, eh. C'è Starlink che è proprio in crisi. Il trenino dei Starlink è in crisi perché non riesce più a leggere niente perché stai rotondo non capisco più che dov'è. Guarda che quando te entri lì dentro infatti c'è una se te entri dal fiume dalla Chiana dal ponte arriva a un certo punto c'è un arco un cancello grande che quello è un monito dantesco del tipo spedete ogni speranza voi che entrate nel senso che come entri dentro dopo non ne riscappi proprio. Io ho provato a indicare un amico mio da casa dice dove stai? Sto a Chiana ti indico la strada quando si esce Pontachiani chiamami che te ho provato chi l'ha ritrovata è indicatore chi ha San Zeno dappertutto non si ritrova più Chiana l'anticipazione ci piace e allora in questa pubblica piazza come si suol dire circolo di Pontachiani domenica 8 settembre alle ore 21 e 30 poi vediamo insomma perché poi se il tempo ci aiuta e se il tempo non ci aiuta se puoi puoi inquadrare perché c'è anche il ecco poi voglio dire anche sabato prossimo c'è anche di pomeriggio di giorno c'è un pranzo che fanno tutti gli anni e la sera ci sarà il ballo con questo sabato e domenica questa cosa qua insomma ecco quindi venite a Pontachiani perché Chiani è un paese da riscoprire ecco venite ma non vi perdete nella rotonda mi raccomando non vi perdete nella rotonda chiedete quando siete lì chiedete dove è Chiani nessuno lo saprà però insomma a naso vi doveste orientare arrivederci adesso la pagina dello sport in pieno svolgimento la terza edizione del Memoria al Paolo Rossi di competizione intitolata all'amato campione del mondo Paolo Rossi quelle finali previste per domenica 8 settembre in Valdarno novità di quest'anno l'introduzione del calcio femminile e delle squadre estere partenza alla grande per la terza edizione del Memorial Paolo Rossi torneo di calcio giovanile intitolato all'amato campione del mondo scomparso nel 2020 anche quest'anno il torneo ha luogo nei campi del Valdarno Aretino rafforzando quindi il legame che Pablito aveva con il territorio dove aveva scelto di vita Vucine Montevarchi San Giovanni Valdarno e Teranova Bracciolini ospitano gli incontri del settore maschile va di Agnano invece le sfide per la prima edizione tutta al femminile le squadre sono letteralmente raddoppiate passando da 8 a 16 con la giunta di squadre estere il Real Madrid il Porto lo Slavia Praga e gli Slovacchi del Dac Presenti i club più blasonati italiani oltre alle protagoniste della finale dello scorso anno Milan e Juventus tra le professionistiche italiane a contendersi il torneo ci sono anche Roma e Fiorentina ma non mancano anche le rappresentative del territorio Aretino e Umbro un'edizione tutta da vivere che vede il coinvolgimento di oltre 500 tra ragazzi e ragazze sempre nel segno del fair play della lealtà e dell'inclusione valori che Pablito ha sempre portato avanti sotto la puntuale organizzazione dell'Accademia Italia Paolo Rossi il torneo è visibile in diretta mondiale sul sito di FIFA Plus per stasera è tutto vi ringrazio per l'attenzione arrivederci per l'attenzione Autore dei sovrapposti